In studio Valentina Frasca. Filippo Ciancimino che stava eseguendo dei lavori in un'abitazione quando il solaio è crollato. Inutili i tentativi di soccorrere l'uomo. Un operaio di 63 anni, Filippo Ciancimino, è morto mentre stava lavorando alla ristrutturazione di un'abitazione in via Papa Giovanni XXIII a Belmonte Mezzagno nel Palermitano. Il solaio è crollato e il 63enne è stato travolto dalle macerie. Inutili soccorsi. Ciancimino pare stesse abbattendo un muro quando il solaio è caduto giù, travolgendolo e uccidendolo. Il corpo è stato estratto dalle squadre dei vigi del fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro e dell'ASP di Palermo. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le posizioni amministrative e previdenziali della vittima. Si sta cercando di comprendere se l'operaio stesse lavorando da solo o se indossasse i dispositivi di protezione personale. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Filippo Ciancimino era un grande lavoratore d'animo nobile e sensibile. La gentilezza fatta persona. Il lavoro era la sua passione. Così il sindaco di Belmonte Mezzagno, Maurizio Milone, che aggiunge «A nome della comunità belmontese, mi stringo ai suoi figli, Marie Concette, Antonio e la moglie, un'altra vita spezzata e un altro episodio, che resta come una grande ferita nel mondo del lavoro. Siamo profondamente indignati. L'idea che un altro lavoratore non farà ritorno a casa ci addolora fortemente». Le parole di Leonardo Lapiana, segretario generale della CISD, Palermo Trapani. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sulla Salma di Maria Grazia Fiore, la ciclitana di 57 anni, deceduta martedì mattina durante un intervento alla tiroide all'ospedale Garibaldi Innesima di Catania. La famiglia ha presentato un esposto in procura tramite l'avvocato Fabio Borrometi, attoniti ai familiari e amici per una morte improvvisa legata ad un intervento che doveva essere di routine. Sono stati convocati stamattina in procura a Catania i familiari della 57enne Mere Grazia Fiore, morta martedì mattina subito dopo l'anestesia all'ospedale Garibaldi Innesima di Catania. Un intervento come tutti gli altri ai quali sarà sottoposto e questa è la circostanza che lascia a sgomento il figlio Bartolo, il quale contattato al telefono ha chierito che insieme con il legale modicano Fabio Borrometi incaricherà un consulente di parte quando sarà eseguita l'autopsia che nelle prossime ore disporrà la procura. La magistratura ha aperto un fascicolo per un omicidio colposo nel quale saranno iscritti per atto dovuto i medici che hanno avuto in cura la vittima alla fine di potersi difendere nel caso di un eventuale processo. La magistratura nelle prossime ore conferirà l'incarico ad un medico legale. La salma rimane nell'obitorio del nosocomio Maria Grazia di origini ciclitane, viveva a Dona Lucata con il marito e i figli, avrebbe dovuto sottoporso ad un intervento alla tiroide martedì mattina. Invece è sopraggiunto il decesso per shock anafilattico, subito dopo l'anestesia. A non darsi pace anche l'amica di Maria Grazia, Carmen Vinci. Aveva avuto già qualche intervento, aveva fatto tanti esami, tante di quelle cose che era dimagrita 15 kg. Maria Grazia era una grande donna, una super donna. Era innanzitutto una grande mamma. Aveva la passione per il ballo, partecipava spesso alle salate danzanti, di salsa e baciata, ma nell'ultimo periodo Maria Grazia era molto debilitata a causa dei suoi problemi alla tiroide che hanno provocato la perdita di peso. Guarda, quando veniva, anche se era stanca per il lavoro, ballava, perché lei mi diceva questo è l'unica cosa che mi fa stare bene, mi fa scaricare la tensione. Lei poi non è potuta più venire alle lezioni, non ha potuto frequentare più perché ha cominciato a soffrire molto di tiroide. I miei ricordi più belli sono questi. Io la guardo e la vedo che balla, balla felice. Faceva le giravolte e aveva gli occhi che le brillavano. In quel momento si sentiva libera. Non mi do pace. No, non ci diamo pace a nessuno. Ci spostiamo adesso a Vittoria per raccontarvi una storia al lieto fine, quella della piccola Diletta, dieci anni che lo scorso 8 settembre ha avuto un malore improvviso. Da lì la corsa all'ospedale di Vittoria, poi il trasferimento al Cannizzaro di Catania dove le è stata diagnosticata una MAV. Un intervento le ha salvato la vita, mentre la comunità vittoriese e non solo si riuniva in preghiera. E ora i genitori vogliono ringraziare tutti. Diletta ha dieci anni, frequenta la quinta elementare a Vittoria e una bambina solare e felice. Lo scorso 8 settembre con la sua famiglia si trova a Castalia. Si sta preparando per lo spettacolo di danza latina, quando un improvviso, terribile mal di testa concentrato nella zona del collo e della nuca fa intuire ai genitori che sta succedendo qualcosa di grave. La bambina urla, piange, inizia a vomitare, alterna momenti di lucidità ad altri di delirio. Immediata la corsa all'ospedale di Vittoria, l'esito dell'attack non lascia dubbi. Si tratta di MAV, una malformazione arterovenosa congenita che nei bambini si rivela quasi sempre letale. Subito i medici predispongono il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania e qui, dopo giorni di accertamenti e angoscia, la piccola viene operata e salvata. Quando succedono queste cose ti senti mancare, ti senti morire. Il cammino è ancora lungo, non sappiamo quanto è lungo. Affronteremo passo dopo passo tutto quello che c'è da affrontare. Ma di Letta ora come sta? Di Letta sta bene, come se non fosse successo nulla, ecco. E non vede l'ora di tornare a scuola? Sì, già quando eravamo in ospedale stesso aveva fretta di andare via perché voleva tornare a scuola. Dai compagni, riabbracciare la maestra e un po' tutti. Papa Davide e mamma Chiara vogliono ora ringraziare anche tutti coloro che si sono riuniti in preghiera e che, grazie al passaparola sui social, hanno fatto arrivare il loro affetto da ogni parte del mondo. La solidarietà è stata grandissima da parte di tutti. Il grazie va a tutte le equipe del Cannizzaro, al dottor Concetto Cristaudo, che è colui che ha operato di Letta, e al buon Dio che ha illuminato la strada da percorrere ai medici. E ovviamente tutti, tutti quelli che hanno pregato per nostra figlia, perché le preghiere sono arrivate anche oltreoceano. La MAV è una patologia fortemente a rischio di vita e nei bambini i vasi sono già di per sé anatomicamente molto fragili, molto deboli, per giunta quelli che vanno e fanno parte di questa malformazione arterovenosa sono pure malati, per cui il rischio, navigandoli, di romperli è altissimo. Siamo riusciti ad entrare in uno di questi quattro feeders che vanno alla MAV, che andava all'aneurisma, che è la parte che si è rotta, che era la parte più debole. L'ennesima storia di violenza sulle donne arriva da Catania. Un uomo di 47 anni è salito sull'auto della ex, l'ha minacciata di morte, l'ha aggredita. La donna lo ha denunciato, non è la prima volta che lo fa e l'uomo ora è in carcere. Un altro caso di violenza, vittima sempre una donna, minacciata di morte dall'ex. Ha fermato l'auto, l'ha colpita con pugni e calci e poi è riuscito a salire a bordo. L'autopasseggeri gli ha stretto le mani al collo dicendo «Stasera ci ammazziamo tutte e due e se ti calmi e vieni con me in un posto non ti succede niente e mi ammazzo solo io». La donna è riuscita però a fuggire e ha denunciato nuovamente l'uomo, un 47enne, che è stato arrestato dai carabinieri della stazione del comando provinciale di Catania per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Nei suoi confronti il GIP, su richiesta della procura, ha emesso la custodia in carcere. L'indagato ricostruisce alla procura, destinatario già dall'8 settembre scorso di un ammonimento del questore, avrebbe intensificato in circa 20 giorni le sue persistenti condotte persecutorie nei confronti della donna, fino ad ingenerare in quest'ultimo un forte senso di timore per la sua incolumità, anche perché l'avrebbe più volte pesantemente minacciata di morte. O sei mia o di nessun altro, avrebbe detto. Una volta gli investigatori hanno scortato la donna che era pedinata dal 47enne, un'altra volta ancora l'uomo sarebbe stato allontanato dall'intervento dei vicini di casa della vittima e subito dopo lui l'ha chiamata al telefono minacciandola. Dopo l'esecuzione del provvedimento cautelare, l'uomo è stato condotto in carcere dai carabinieri. È operativo a Pozzallo il nuovo centro per le domande veloci di asilo politico. È il primo in tutta Italia. Dopo l'approvazione del decreto Cutro, ieri sono arrivati i primi migranti. È il primo centro sperimentale in Italia ed è a Pozzallo, operativo da ieri pomeriggio. Quando sono arrivati i primi migranti per la richiesta veloce di asilo politico, il centro nato a seguito della normativa contenuta nel decreto Cutro nasce all'interno del nuovo hotspot della zona Asi tra Modica e Pozzallo e dispone di 80 posti per i richiedenti asilo politico per un totale di 300 ospiti. Ci verranno 98 giorni per esaminare i documenti alla presenza di rappresentanti legali, ma se l'immigrato non vuole rimanere nel centro, può allontanarsi con una garanzia finanziaria di quasi 5.000 euro che dovrà essere versata dal richiedente asilo fino all'esito dell'esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. L'aggiornamento dell'importo sarà a cadenza biennale di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio, una nuova mossa nel tentativo di fermare le partenze illegali. Allo straniera è dato il minato avviso della Facoltà Alternativa al Trattenimento di prestazione della garanzia finanziaria. gridano al flop le opposizioni sulla gestione dei flussi migratori del governo Meloni e non solo per l'orrore della speculazione politica sulla vita di chi è disperato, ma anche per l'approssimarsi con cui gestiscono un fenomeno che farà aumentare anche l'insicurezza. Lo ha detto il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, visitando l'hot spot di Lampedusa con Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD siciliano e deputati Giovanna Iacone e Michele Catanzaro. Il PD della Sicilia ha fortemente voluto inaugurare proprio a Lampedusa la festa dell'unità regionale perché lancia un messaggio politico chiaro. Il governo deve smetterla con la propaganda e aprire un dialogo vero in Parlamento sulle proposte dell'opposizione. L'emergenza ai migranti, aggiunto il deputato Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD in Sicilia, ha avuto in questi mesi picchi di presenze mai viste prima. Un successo sono invece i numeri dei rimpatri per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Lo ha detto al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il nuovo decreto sull'immigrazione il quale ha comunicato che si registrano il 20-30% in più di espulsioni rispetto allo scorso anno. L'espansione della rete dei CPR e centri di permanenza per il rimpatrio è fondamentale. C'è bisogno di strutture di trattenimento, ha dichiarato Piantedosi, dove finiscono persone che hanno condizioni di pericolosità convalidate dall'autorità giudiziaria. Abbiamo quattro anni di lavoro, ha ancora detto Piantedosi, e confidiamo che i numeri delle espulsioni saranno crescenti. Il presidente della regione Renato Schifani bacchetta i dirigenti sui fondi dell'Unione Europea e chiede che venga accelerata la spesa della programmazione 2014-2020. Critiche arrivano dal capogruppo del PD all'Ars, che invita Schifani a spiegare in aula perché si rischia di perdere questi fondi. Strigliata per i dirigenti generali convocati questa mattina a Palazzo Dornean per fare il punto sui fondi europei ancora non spesi e non rendi condati in previsione della chiusura del programma previsto per il 31 dicembre. Per il governatore Schifani bisogna accelerare sulla spesa dei fondi europei del ciclo di programmazione 2014-2020 e scongiurare il rischio di restituire le somme a Bruxelles. Schifani ha richiamato i dirigenti generali a un maggiore senso di responsabilità necessario per affrontare le criticità che riteniamo superabili, ha detto, ma occorre un grande impegno da parte di tutti. I dati economici ci incoraggiano, ma non possiamo perdere questa sfida a causa dei tentennamenti della politica e della lentezza della burocrazia. Il Presidente ha voluto incontrare singolarmente ogni capo dipartimento per affrontare nel merito le criticità relative a ciascun settore. Durante l'incontro Schifani ha invitato tutti i presenti a indossare un abbigliamento consono alle istituzioni che rappresentano. È stigmatizzato l'assenza di alcuni dirigenti a capo di settori chiave per la spesa dei fondi europei, come il dirigente generale del comando del Corpo Forestale Giuseppe Battaglia, Salvatore Taormina delle Autonomie Locali, Mario Larrocca del Dipartimento Beni Culturali, Salvatore Requirez a capo del DASOE e Salvatore Iacolino, dirigente della pianificazione strategica dell'assessorato alla salute. Critico il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo, che commenta scattano le liste di proscrizione a Palazzo d'Orlean, ci aspettiamo uniformi, pennacchi e livree per tutti i dirigenti generali della regione siciliana. Non si scappa dall'ira del Presidente della regione che non spende, non programma, non governa e polemizza financo con i vescovi, ma trova il tempo di riprendere chi, tra i dirigenti generali, non si presenta alle adunate o non indossa livree uniforme a lui gradite, scomunicandoli via comunicato stampa, conclude Barbagallo. Il procedimento era addirittura ad arrivo e il Tribunale avrebbe dovuto esprimersi sulla confisca dei beni decisa dalla Procura di Palermo a carico dell'ex senatore Marcello dell'Utri, ma a sorpresa i PM hanno depositato numerosi nuovi documenti, tra cui la relazione fatta dalla DIA di Firenze nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto l'ex manager di Publitalia per strage ai giudici. Non è rimasto altro da fare che rinviare per osservazioni l'udienza al 6 dicembre, mentre è definitivamente chiusa la fase cautelare del procedimento, visto che la vessazione, come chiedevano i legali dell'ex politico, ha respinto la richiesta di sequestro del patrimonio di Vellutri. Allarme microcriminalità nel centro storico di Modica, in Via Castello, i residenti denunciano ripetuti atti di vandalismo e la mancanza totale di rispetto nei loro confronti. Veronica Pugnesi Siamo al centro storico e chiediamo aiuto a qualcuno, non so ormai chi. Si dicono avviliti i residenti di Via Castello a Modica, una via che conduce fino a Casa Quasimodo e alla chiesa di San Pietro, tra le più belle del centro storico, attraversata da numerosi turisti e addetta di coloro che vivono nella zona, purtroppo anche da gruppi di ragazzi protagonisti di atti di vandalismo e di disturbo della quiete pubblica. Sono le immagini a parlare, girate dal titolare di un esercizio commerciale, sono gli stessi residenti a raccontare quello che accade nel fine settimana. Lo accade di tutto, di tutto e di più, gente che urina tranquillamente, di giorno, di notte, in qualsiasi ora, senza alcun pudore, senza nessun problema. Abbiamo provato di tutto, la vigilanza privata, a chiamare chiunque, ma nessuno si prende la responsabilità, che qualcuno se ne prenda responsabilità di quello che accade qua in Via Castello, che ci dia una mano a risolvere questo problema, questo degrado, in questa bellissima via. Un vicolo in particolare, vicomediche, tra le zone colpite dal degrado, dalle risse, dalla mancanza di qualsiasi rispetto da parte anche di ragazzi minorenni nei confronti dei residenti. Nel pomeriggio, specialmente dopo le 17 e in più di più nel sabato sera, c'è un gruppo di ragazzi che si siedono di fronte al vicomedica e tutto un gruppo di dieci e che non solo insultano che basta, ma si può dire che inveiscono, così saranno sì e no dopo la tazza media e perciò siamo qua che stupiamo. Qualche giorno fa è successo dei ragazzi che litigavano fra di loro e che noi cerchiamo di dare un certo contenio e dico ragazzi calmatevi, lei si faccia i fatti suoi, che sono veramente dei vandali, tra l'altro hanno rotto dei muri, hanno fatto un po' di tutto, segnano, fanno un pochino di tutto. Io è inutile che mi metto qui a dire, rimettono nel momento in cui non stanno bene, c'è anche qualcuno che fuma e altre cose e quindi speriamo che si faccia qualcosa. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, non intende pagare 15 mila euro a spettacolo nel teatro antico, nelle cinque serate riservate al comune e minaccia installazioni di tornelli nella via che conduce all'area storica. Posso pagare per stare a casa mia? Ha detto al termine della riunione con la Commissione Anfiteatro Sicilia relativa alla programmazione spettacoli della stagione 2024 nel teatro antico di Taormina. Ho chiesto che vengano riviste le regole di assegnazione degli eventi al teatro antico per la prossima stagione estiva, dice De Luca e ho espressamente detto che l'amministrazione di Taormina non intende autorizzare alcuna manifestazione nei mesi di luglio e agosto 2024. È una misura necessaria per tutelare il bene. Martedì prossimo torneremo a riunirci e ho chiesto che la bozza di convenzione tra l'assessorato regionale e il parco di Naxos nel frattempo venga modificata tenendo conto delle nostre ragioni. In Sicilia si è chiusa l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera a tre mesi di intenso lavoro e sono stati illustrati i risultati. Si chiude l'operazione Mare Sicuro che per tutta l'estate, grazie all'impegno quotidiano della Guardia Costiera, ha permesso di tutelare coste, bagnanti e imbarcazioni. Per quanto riguarda il versante orientale dell'isola sono state 132 le persone soccorse e 38 le unità navali, oltre 12.682 i controlli effettuati via mare e via terra, 849 le sanzioni amministrative elevate, 39 le notizie di reato e 5.837 i metri quadri fra spiagge e tratti di mare abusivamente occupati restituiti alla libera fruizione. Fra le operazioni di soccorso vale la pena ricordare l'evacuazione via mare di 23 persone in fuga da un vasto incendio sulla spiaggia nella zona dei laghetti di Marinello di Patti, il salvataggio di un naufrago inizialmente dato per disperso caduto in mare nello stretto di Messina da un traghetto e il difficile soccorso a causa delle avverse condizioni meteo di un'imbarcazione a vela che a sud dell'isola di Alicudi imbarcava acqua. Nella Sicilia occidentale invece sono state oltre mille le violazioni amministrative contestate, 199 in materia ambientale, 194 per violazione al codice della navigazione, 339 per violazioni commesse da diportisti, 264 per violazioni alle ordinanze balneari, 10 agli stabilimenti balneari. I reati accertati sono stati 46 e di questi 12 in materia di inquinamento, 25 in materia di demanio e sulla violazione della navigazione e da diporto. Nel corso della stagione estiva sono state soccorse 122 persone e 42 imbarcazioni e complessivamente i controlli sono stati 26.869. Qualche minuto di pubblicità, torniamo tra poco per la seconda parte. Bentornati in studio, seconda parte di MTG, andiamo in provincia di Caltanissetta dove emergono nuovi reperti dell'età ellenistica dalla seconda campagna di scavi eseguita in Contrada Manca nel territorio di Vallelunga, Pratameno. Una statuetta in terracotta raffigurante una figura femminile velata con indosso una tunica e un mantello, coppette, piatti a vernice nera, una lucerna, un guentari in terracotta e monete. Sono gli ultimi preziosi ritrovamenti della seconda campagna di scavi eseguita in Contrada Manca nel territorio di Vallelunga, Pratameno, in provincia di Caltanissetta. Durante i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Catania-Palermo, infatti, le indagini archeologiche eseguite da Italfer sotto la guida della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta avevano portato alla luce un insediamento rurale di età romana tra il I e II secolo d.C. Gli scavi recenti, dai quali provengono i reperti di pregio emersi negli ultimi giorni, farebbero emergere livelli di frequentazione riconducibili anche alla tarda età ellenistica. L'insediamento di Contrada Manca doveva rappresentare un punto di riferimento economico e produttivo molto importante. Alcuni ambienti della villa dovevano svolgere la funzione di magazzini per le derrate oppure di botteghe per attività artigianali e produttive. Si ipotizza inoltre che uno degli edifici di recente portate alla luce potesse essere destinato a funzione di rappresentanza per le sue caratteristiche architettoniche e costruttive. La pianta quadrangolare con alloggiamenti semicircolari nei quattro angoli presenta al centro un grande pilastro a base quadrata che forse reggeva una copertura a falde. Un altro edificio che certamente contribuirà a fare chiarezza sull'articolazione planimetrica del complesso edilizio è in corso di scavo e presenta un'apertura a portico sul fronte orientale della villa. L'auspicio è che in tempi brevi si possa pervenire alla completa messa in luce dell'importante complesso rurale, ha commentato l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Mai smettere di studiare lo dice ai nostri microfoni il 57enne Sergio Carpinteri che ha conseguito pensate 13 lauree e promette che continuerà a studiare per raggiungere altri obiettivi. 57 anni e 13 lauree. A conseguire questo rarissimo successo è Sergio Carpinteri, un canicattinese con la passione per lo studio e per l'arte. Proprio a Canicattini Bagni Sergio ha creato un museo ma nonostante l'impegno lavorativo non si stacca mai dai libri per apprendere e per conseguire obiettivi più unici che rari. È tra i record anche quello di aver ottenuto due lauree in due giorni consecutivi e ci dice forse ma nessuno ci è riuscito in Italia. Le ultime due lauree sono didattica museale e mediazione culturale nuovi linguaggi della pittura. La prima laurea è arrivata a 24 anni e proprio dove ha conseguito le lauree ossia l'Accademia di Belle Arti di Catania lo abbiamo incontrato questa mattina. È una passione che ho io che è cominciata nel 1990 e ancora la porta avanti. Mi piace molto studiare e lo consiglio a tutti. A 24 anni la prima laurea ma pensiamo anche che a 15 anni decidi di abbandonare il liceo per poi riavvicinarti un po' più tardi. Non avevo capito perché si studiava e perciò pensavo che fosse soltanto un obbligo ma in realtà poi ho capito che era una passione, ho comprato i libri, ho cominciato a scrivermi e sono qua. Amante dell'arte, amante della cultura, non a caso indossi anche il tricolore perché proprio hai discusso così la tua ultima tesi. Questa qui praticamente penso che gli artisti, a meno l'Italia, è proprio piena di artisti perciò a maggior ragione mettere la bandiera specialmente nel periodo che abbiamo avuto nel Covid. Ci siamo tutti ritrovati, anche io in questo momento mi ci ritrovo. Da poco appunto la tredicesima laurea ma non ti fermi qui. No, no, penso di andare avanti, di fare altre corsi. Mi piace molto il cinema, vorrei completare qualcosa di cinema, ma anche il fumetto con la grafica che sono molto bravo. Io penso che tutti si possono prendere tredici lauree, non sono io la persona più fortunata. Io penso che ognuno deve trovare un suo percorso nella vita, studiare perché la formazione è molto importante. E non si smette mai di studiare? No, no, io non smetterò mai di studiare. Io ho fatto tutte le lauree di arte e voglio rimanere su questo argomento che poi è la mia storia, la mia vita, l'arte. Il leader dei Rolling Stone, Mick Jagger, turista d'eccezione a Catania, sui suoi social ha postato le foto del suo tour nella città dell'elefante. Ce ne parla Sara Donsus. Una passeggiata tra le bellezze di Catania, una scena in un noto locale, ritrovo soprattutto per i giovani e poi una foto nella grotta naturale della Menano e una davanti al Castello Ursino. A fare tutto ciò non un turista qualunque, ma Sir Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, tra le personalità più influenti della musica rock. Il cantautore ha scelto ancora una volta l'Italia e in particolar modo la Sicilia e Catania per trascorrere qualche giorno di relax, ma anche forse per trovare l'ispirazione per nuove canzoni. Enjoyed spending some time in Italy recently, ha scritto infatti a commento delle foto che ha postato sui social. E lo stesso Mick Jagger dunque a evidenziare come gli sia piaciuto trascorrere un po' di tempo in Italia recentemente. E da Instagram a Facebook decine di migliaia i like e i commenti. E con questo è tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione e buon proseguimento su Video Mediterraneo.